mamma mia ragazzi che vittoria e che sofferenza mamma mia una vittoria soffertissima immeritata secondo me ma proprio per questo da questo punto di vista godo il doppio perché è stata veramente una partitaccia una bruttissima inter che per me non meritava di vincere ma da un certo punto di vista godo il doppio proprio per questo perché fino al gol di screener dell'1 a 0 l'inter per me era proprio non pervenute in campo non mi ricordo una parata di kordaz che non ha fatto nessuna parata al contrario di un andanovic che è stato decisivo oggi ha fatto due miracoli pazzeschi e dobbiamo ringraziare lui se adesso stiamo commentando siamo qua a commentare una vittoria dell'inter perché il merito è tutto suo comunque andanovic è un giocatore dell'inter quindi frega fino a un certo punto ragazzi ma l'inter oggi non mi è piaciuta però proprio per questo è una vittoria che vale doppio perché questa partita l'inter non meritava probabilmente manco il pareggio secondo me fino allo 0 a 0 crotone perfetto messo bene in campo una squadra che ci ha fatto sudare sette camicie faticavamo proprio a guadagnare metri in campo possesso palla di una lentezza clamorosa il primo tempo è stato veramente allucinante anche nella prima parte del secondo veramente è stato imbarazzante l'inter nel primo tempo gagliardini è stato l'emblema di un inter veramente brutta lenta impaurita anche col pallone tra i piedi proprio come gagliardini ragazzo mio c'è 20 anni 23 20 22 23 anni quanti ne hai pure tu ma sei più lento di tiago motta però svegliati svegliati che sei stato imbarazzante giustamente sostituito vesino ha fatto assolutamente qualcosa in più rispetto a gagliardini ha fatto vedere un inteso sicuramente migliore con borca valero anche borca sicuramente nel secondo tempo soprattutto è calato alla distanza ma infatti il mister lo voleva far riposare proprio per questo perché aveva bisogno borca valero di rifiatare ma non ci possiamo permettere di farlo rifiatare ragazzi perché purtroppo la nostra inter è ancora questa che si deve ancora plasmare ma diciamo che linea di massima ragazzi c'è oltre i gol di screener e perisic e le parate di andanovic per me sono questi tre i protagonisti dalla partita gli altri veramente hanno fatto schifo tutti quanti tutti tutti io non ricordo un'azione degna di nota giovario stesso che è entrato bene in occasione del secondo gol ma è cresciuto con gli spazi che ha lasciato il crotone arrivato ad un certo punto della partita perché altrimenti non si sarebbe mai visto icardi è stato oggi come la sua capigliatura è stato imbarazzante icardi non si è mai visto può capitare di trovare partite così che fatichi che non sono partite ideali per te che devi far gol eccetera eccetera ma ti devi far valere sotto tantissimi altri punti di vista devi venire incontro devi creare qualche spazio per i compagni oggi invece malissimo quelle poche volte che è venuto incontro ha sbagliato tantissimi appoggi icardi per fortuna ripeto abbiamo sbloccata con un calcio piazzato perché questa partita per come si è messa la sbloccavi solo con un calcio piazzato ragazzi e per fortuna ho visto screener la duellare ho visto avversari rimbalzare contro screener e per fortuna poi avuto quel colpo di genio di esterno sotto le gambe del difensore tiro imparabile assolutamente siamo andati avanti un a zero ma tutti gli altri miranda screener stesso in fase difensiva i terzini dalbert ancora molto impaurito troppo impaurito ragazzi non mi è piaciuto d'albert oggi ha sbagliato tantissimo lo vedo col freno a mano tirato molto impaurito in campo candreva il solito candreva io ve l'avevo detto ragazzi ok candreva sta giocando bene ma vedrete che quando affronteremo avversari chiusi lì si vedranno i limiti di candreva dell'inter in fase offensiva che siamo abbastanza prevedibili e infatti si è visto questo una squadra prevedibile negli ultimi metri che faticavamo a saltare l'uomo a far girare palla velocemente a fare uno due sulla tre quarti faticavamo a fare tutte queste giocate utili per guadagnare superiorità numerica e con degli esterni candreva soprattutto che non hanno mai saltato l'uomo io candreva non lo vedo saltare l'uomo da anni ormai ragazzi quindi questo è cari mie ci prendiamo questi tre punti d'oro pesantissimi per come per come è arrivata questa partita e non mi aspettavo una sofferenza così anzi avevo detto tantissime volte speriamo di non sottovalutare il crotone perché sarà una partita molto dura è stata una partita ancora più dura di quello che mi aspettavo ringraziamo Skriniar ti amo Skriniar ringraziamo Perisic ti amo Perisic perché hai chiuso la partita se è stato decisivo col 2 a 0 finale ma ringrazio soprattutto San Samir Andanovic grazie Samir perché veramente è tutto merito tuo se stiamo commentando una vittoria immeritata ma per questo mi fa godere il doppio cari miei fatemi sapere nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate di questa vittoria dell'Inter se siete d'accordo con il mio pensiero su questa vittoria ci sentiamo domani ragazzi con una live commenteremo insieme la vittoria dell'Inter e tutti gli altri risultati un saluto a tutti voi amici sempre amala e intanto 4 vittorie in campionato questa è la cosa più bella ciao ragazzi